Si fondono. Che cosa succede quando due sentiri sono quasi uguali? Commento. Dopo il trapasso nel piano della coscienza i sentiri si fondono. Per questo la realtà fisica è diversa da come ci appare. Perché? Perché se noi fossimo più evoluti, adesso al bar, tu, la tua compagna, mio fratello, io e tuo figlio, invece di cinque persone, come adesso crediamo di essere, saremmo tre persone. Ma perché? Perché prima dell'incarnazione, nel piano della coscienza, i nostri sentiri si sarebbero fusi.